Churria mette il cross, dentro colpo di testa Tatarugiano, barattissima di Tatarugiano. Va dentro Vecino, che prolunga per il tiro di prima, è la chiusura di Sportiello. Olivera, lascia andare Don Belè, Lozano prende la mira! Grande conclusione, con tocco decisivo di Rui Patricio, calcio d'angolo. Cross in mezzo, occhio perché arriva Locatelli, Miretti, il dribbling, Miretti! Vicario, cosa ha preso il portiere dell'Empoli? Gunther, con il destro, crossa verso il secondo palo, sono in due. La palla è buona per Faraoni, Faraoni, poi rimpallo, autotraversa e poi di testa Lasagna consigli salva! E poi ancora Verona, un passo dal gol del 2-1, è successo di tutto! Va Arnautovic, a puntare Paschirotto, Arnautovic le finte, la tiene lì, poi cambia tutto nella zona di Posh! Falcone, con le ali, mette in calcio d'angolo! Deulofeu, uno contro uno, il pallone al limite, Beto! Sul fondo di un nulla, c'è stata deviazione, calcio d'angolo! Che chance di pareggiare per i bianconeri! Po' time, poi Piontek! Miracolo di Dragowski! Che la mette in calcio d'angolo! Che la mette in calcio d'angolo!